la bambina selina è mattina oggi farò la sfida del rosa per 24 ore sarà divertente ho anche le tende rosa ora scegliamo un vestito rosa questo è il vestito che indosserò oggi mi sono messa il vestito ora è il momento dei capelli elastici rosa sono pronta cosa stai facendo papà? sto lavorando sei pronto a prendere parte alla mia sfida rosa per 24 ore? cosa? ci sto ok allora deve essere tutto rosa ecco lasciamelo prendo il portatile non sono ammessi i orologi bianchi e prendo anche le cuffie prendo il tuo telefono e te ne do uno rosa e come lavorerò? ecco qua oh ok pronto? ok allora ok ok può essere ok arrivederci le cuffie vanno bene il computer è ok il telefono è a posto anche i vestiti devono essere rosa oh va molto meglio puoi lavorare adesso ok adesso cosa farai? giocherò con i miei giocattoli 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 la 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 questo giocattolo è rosa posso giocarci posso giocare con te sei molto bella ma non posso giocare con te oggi un topo rosa posso giocare con te ha una corona rosa e questo è piccolo e rosa mmm sei giallo non rosa ti metto qui devo mettervi in una borsa rosa è nera prenderò questa è nera prenderò questa anche io sono pronta miau posso giocare con te hai un vestito rosa ho tanta fame ho tanta fame papà va bene ti preparerò qualcosa da mangiare ti preparo la zuppa di pollo zuppa rosa? certo che no ti sei dimenticato la sfida di rosa dura 24 ore ok fammi controllare rosa ma di rosa non c'è niente da mangiare resterò senza cibo oggi ovviamente no ho un'ottima idea vieni seguimi sono pronto papà te ne sei dimenticato il nero non è ammesso ok vero andiamo papà aspetta prendo i miei giocattoli papà per favore fermati prendi il monopattino rosa ok evviva siamo arrivati benvenuti potete usare il disinfettante rosa wow 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 fiori ovunque gelati a forma di unicorno grazie grazie posso avere un hamburger rosa per favore wow wow e io ho degli spaghetti e ora laviamoci le mani prima che arrivi il cibo andiamo ok ci sono fenicotteri rosa ovunque vorrei che anche l'acqua fosse rosa no papà no è verde e a noi serve il rosa andiamo a vedere sì possiamo sederci qui è bellissimo qui diamo un'occhiata mentre il nostro cibo viene preparato ok andiamo qui qui legge il futuro dalla mano ci siamo appena lavati le mani non tocchiamo dai un'occhiata papà cosa c'è? accessori accessori sì anche cristalli sì ci sono anche i cristalli andiamo a vedere il giardino sì andiamo in giardino specchio specchio delle mie brame c'è qualcuno più rosa di selina? no sì i cavalli sono molto belli rosa grazie anche io voglio la cannuccia rosa mmm è dolce lo berrò dopo aver mangiato quando sarà pronto ho tanta fame grazie grazie Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Eh, cosa ne pensi? È possibile trovare tutto viola?